Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Il martinismo di Jean-Baptiste Vigermont Quale specie di martinismo ha praticato Jean-Baptiste Vigermont, uno dei discepoli più fedeli ma meno dotati teurgicamente di Martinez? Per comprendere Vigermont e la sua opera dobbiamo seguire un poco la sua vita esoterica Esotericamente era un buon negoziante di seta, ben introdotto nella classe borghese-lionese con un'ottima reputazione vita esoterica legata e handicappata forse dalle pastoie di un cattolicesimo radicato nella sua struttura mentale ed emotiva In forme tali che riemerge ad ogni passo Ma questo non meravigli! Il mondo d'allora, il mondo massonico ed esoterico d'allora, era cristiano e perseguiva il sogno di un cristianesimo universale e purato dai suoi mali secolari per mezzo della massoneria Il Werner ne è un esempio eclatante, ma non solo lui Stark, Dahlberg, Fessler e via via un numero considerevoli di massoni dell'epoca Palesemente o in segreto sognavano il sogno irrealizzabile La conciliazione della scienza segreta con una religione esoterica sempre più degradante e disponibile a pagare qualsiasi tributo al mondo profano per sopravvivere Pur non volendoci mettere per questa china Ricorderemo ancora il cavaliere beneficente della città santa dell'ordine di Vigermont Joseph de Maistre È proprio a questo proposito, leggendo un libro su di lui, di Dermengem, che vogliamo citare questa frase Il secondo, Vigermont, commerciante lionese di prodigiosa attività e discepolo di Martinez era l'anima dello scozzesismo francese e dei Cohen di Lione Egli internava l'aspetto pratico, esteriore e massonico di questo martinismo In una parola, Saint Martin era soprattutto un mistico Martinez, soprattutto un occultista E Vigermont, un attivo massone Penso che questo giudizio, per quanto concerne il personaggio, sia valido In che modo Vigermont, cancelliere della gran loggia di Lione e pieno di tutti i possibili gradi massonici si iniziò alla massoneria di Martinez e con umiltà si applicò al culto da lui insegnato? Innanzitutto, vi fu lo shock della sua iniziazione fatta dallo stesso Martinez a Parigi nel maggio del 1767 a Versailles Questa iniziazione, benché Vigermont nulla avesse visto né udito di straordinario lo colpì in modo tale che dopo 50 anni dall'evento la raccontò in una lettera a Turcaim come se fosse avvenuta allora ma da allora cominciarono le sue disillusioni Innanzitutto, l'ascesa al grado di apprendista Roquois, che doveva avvenire l'11, 12 e 13 maggio del 1768 fu condotta da Baccon della Cavalerie fuori tempo magico e in condizioni disastrose tanto che lo stesso Martinez attribuisce alle orribili irregolarità compiute la mancata manifestazione della cosa mediante i passi Tale carenza lo doveva successivamente perseguitare malgrado la sua ammissione alle operazioni dei tre giorni lunari e alle operazioni equinoziali che, per un verso o per un altro non riusciva mai ad iniziare Ma la pazienza e la saggezza di Vigermont ebbero la prevalenza sulle sue reazioni emotive Innanzitutto, non è vero che per la riuscita di un'operazione si debba manifestare immediatamente una prova tangibile In secondo luogo, tutta la sua vita sarà, d'ora innanzi, illuminata e sorretta dalla dottrina segreta di Martinez alla quale, come sa Martin resterà fedele fino all'ultimo suo respiro Quando il maestro muore a San Domingo egli si rigetterà nel turbinio dei riti praticati dalla massoneria ma ormai ha compreso che dentro questi non vi erano sostanzialmente scoperte segrete da compiere Ed è allora che pensa alla riforma della massoneria che conduce e persegue con una costanza ed una fermezza non disgiunte da grandi abilità pari a quelle impiegate per comprendere e rielavorare la dottrina segreta di Martinez Il frutto della sua opera è il rito scozzese rettificato attualmente largamente diffuso in Europa e che si compone di una classe simbolica che è la massoneria propriamente detta la cui iniziazione e il cui simbolismo è il rapporto con l'arte del costruire e con i templi di Salomone, Zorobabele e con la Gerusalemme celeste Si compone dei già ricordati quattro gradi apprendista, compagno, maestro e maestro scozzese di Santa Andrea Dell'ordine interiore o del Santissimo Ordine che ha un carattere cavalleresco e non più massonico in cui lo stato di cavaliere beneficente della città santa è preceduto da un noviziato lo scudiero novizio Infine, dei collegi dell'ordine dei grandi professi che oggi non hanno più esistenza ufficiale e i cui membri venivano reclutati con somma e massima discrezione Questi collegi possedevano le istruzioni segrete di cui appresso vedremo la portata e dovevano, secondo le intenzioni di Guigermont costituire il palladium e l'arca dei principi fondamentali dell'ordine intero Delle equivalenze furono stabilite tra i gradi dei riti massonici e quelli del rito scozzese rettificato Ma più che di equivalenze si dovrebbe parlare di convenienze perché, a partire dall'ordine interiore in realtà non si può più parlare di massoneria con il suo simbolismo i suoi miti i suoi drammi iniziatici, eccetera ma di una condizione diversa comportante attraverso una modificazione esteriore ed interiore dei membri la conquista di uno stato cavalleresco il che è cosa ben diversa come si può comprendere per completezza, comunque diamo le equivalenze Maestro scozzese di Sant'Andrea equivale a Cavaliere Rosa Croce Scudiero Novizio equivale a Grande Letto Cavaliere Kadosh Cavaliere Beneficiente della Città Santa equivale al trentatresimo grado di Sovrano Grande Ispettore Generale Nelle prime due classi la dottrina martinezista non appare e in ciò Vigermont seguì l'esempio del suo maestro Il cristianesimo trascendente che vi traspare è un apporto sia della stretta osservanza templare che è alla base del rito sia alla conservazione di elementi tradizionali in un organismo tradizionale Per quanto concerne la grande professione le cose cambiano diversamente Questa fu organizzata al convento di Lione nel 1778 e in quella occasione furono introdotte le istruzioni segrete ispirate alla reintegrazione di Martinez Scrisse Vigermont Tutto quanto vi ho inserito Concernente la parte scientifica non è tutto di mia invenzione Io l'ho preso dalle conoscenze che ho acquisito nell'ordine che ho citato più volte e cioè quello dei cavalieri massoni eletti Cohen Diamo una tabella dei gradi della stretta osservanza e del rito rettificato come emerse dal convento di Lione del 1778 successivamente accettata in quello di Willem Schbad del 1782 Quali erano dunque le istruzioni per i professi? La Yoli nel suo libro Un mistico lionese e i segreti della massoneria del 1938 ce ne dà un ottimo riassunto che qui per intero riportiamo Come i Cohen i professi apprendevano che Dio è uno triplice e quadruplice secondo che si consideri la sua potenza o la sua natura Che il mondo fisico fu creato dopo la rivolta degli spiriti per essere la prigione di quelli perversi Che la materia è di essenza trinitaria formata dalla combinazione dei tre elementi sale solfo e mercurio Che tutta la materia verrà infine riassorbita con la conseguente scomparsa di tutti gli esseri del mondo minerale vegetale ed animale Che tutti gli esseri sono ripartiti in quattro classi sempre più lontane dal centro divino a secondo che la loro missione è più temporale e la loro forma più materiale Che occorre distinguere tra gli esseri quelli che sono emanati e sono gli strumenti passivi della divina volontà e quelli che sono emancipati e godono del loro libero arbitrio Infine che due forze opposte agiscono sull'universo il bene e il male Anche la storia del destino umano segue grossomodo quella di Martinez Vigermont insegna che l'uomo fu creato ad immagine di Dio superiore a tutta la natura spirituale temporale e materiale potente in tutta l'accezione del termine per poter essere un mezzo di riconciliazione per il principio del male ma che avendo fallito la sua missione e per la sua prevaricazione è stato punito con la morte spirituale dopo la sua caduta tuttavia non è divenuto un essere passivo e mostruoso a causa dell'alleanza anormale dello spirito e del materiale che costituisce la sua natura degradata il suo crimine è la sorgente di tutti i mali che affliggono l'umanità l'uomo non ha che uno scopo quello di riconciliarsi questo scopo non è impossibile sia perché Adamo ha ricevuto dei soccorsi potentissimi e successivamente perché l'opera del Cristo divino riparatore universale e il suo insegnamento il cui senso segreto è conosciuto dai suoi discepoli ci ha aperto la via e ci promette il successo gli emblemi massonici si rapportano a questa mistica e debbono essere interpretati in questo senso il tempio di Salomone secondo il piano misterioso ricevuto da David è eseguito da Salomone con l'aiuto di Hiram e dei primi massoni ed è costruito ad immagine dell'uomo e dell'universo studiare i simboli del tempio è studiare l'uno e l'altro ma secondo la Ioli Vigermont utilizzando l'insegnamento del suo maestro aveva compiuto una distinzione in due parti una storica e teosofica di cui aveva fatto un précis abrogé ossia un abbreviato preciso ad uso dei professi l'altra contenente delle nozioni sulle classi degli esseri spirituali e i piani di operazioni la geografia e la cosmografia mistica così come la pratica le preghiere le operazioni teurgiche e i sistemi di interpretazione numeri geroglifici e caratteri che permettevano di comprendere i passi non venivano del tutto insegnate nella professione i professi non apprendevano che teoricamente la storia del mondo e quella degli uomini ai koen era riservato un ruolo più attivo la possibilità di comunicare con gli esseri spirituali intermedi del divino e di agire misteriosamente nell'immensità dell'universo da quanto emerge è chiaramente comprensibile l'opera di Vigermont che possiamo così riassumere come il suo maestro egli dà un contenuto al segreto massonico che all'epoca sua era simbolico mitico quando non sfociava nel pratico progetti di rivoluzione piani finanziari eccetera inclusa la rivendicazione dei possessi materiali dei templari il contenuto segreto è la dottrina della reintegrazione di Martinez tale e quale con una maggior coloritura cristiana ritenne che solo dopo aver acquistato uno stato particolare era possibile al massone intendere questa dottrina segreta e pertanto provocò la rettifica dell'ordine della stretta osservanza templare nel senso da lui voluto seleziona una classe di cavalieri costituendo i professi i quali solo dopo aver appreso la teoria potranno passare alla pratica operativa il passaggio alla pratica non è al giorno d'oggi documentato con la sua opera comunque egli ci ha dato la possibilità di ricevere per via certa il sacramento d'ordine di Martinez almeno fino ad un certo livello l'insieme di queste operazioni e modifiche durate tutta una vita prendono il nome di Willermozismo in italiano e rappresentano una porzione non trascurabile dell'eredità martinista di oggi riaccenniamo ancora che probabilmente il martinismo russo ritrasmesso in occidente trova o ha trovato il suo maggior veicolo in questa corrente grazie